Via alla commissione atti sui fondi alle associazioni, il centrodestra invoca trasparenza, chiesa o asilo alla torraccia e scontro fra diocesi comune, affari illeciti col super bonus, sequestrato un milione e mezzo e una Ferrari ed imprenditore pesarese, ospedale di Fano, un nuovo ecografo nella lotta al tubore alla prostata. Oltre metà della provincia pesarese entra nel progetto degli itinerari della bellezza. Buona serata a tutti voi amici e amici di Rossini TV, ben ritrovati al nostro spazio informativo serale di Rossini News. Il telegiornale di giovedì 1 agosto che apriamo nuovamente con il caso degli affidamenti diretti da parte del comune di Pesero alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare che si avvicinano ormai ai 600 mila euro di fondi erogati. Dopo la bocciatura del consiglio comunale relativamente alla richiesta di commissione di istituzione di una commissione d'inchiesta è partito oggi il lavoro della commissione atti e garanzia con il centrodestra motivato a dare battaglia per fare trasparenza su questa vicenda. E' partita questo pomeriggio la prima commissione controllo atti e garanzia presieduta dal consigliere comunale Marco Lanzi volta a cercare di fare chiarezza sul caso della pioggia di affidamenti diretti del comune alle associazioni culturali Opera Maestra e Stella Polare. Un modus operandi che non ha soddisfatto il gruppo consigliare di centrodestra dopo la votazione contraria nell'ultimo consiglio all'istituzione di una commissione d'inchiesta specifica sulla vicenda. Per il centrodestra riunito questa mattina in Sala Rossa il no alla commissione è un'occasione persa di trasparenza di smarcamento dall'ultima legislatura di Matteo Ricci all'interno di una situazione in cui ora si chiede anche l'accesso agli atti delle partecipate del comune come Aspes, Fondazione Pescheria e Pesaro Parcheggi. Abbiamo visto che non soltanto ci sono degli affidamenti diretti del comune ma anche da parte di Aspes, da parte della pescheria. Quindi noi abbiamo deciso veramente di approfondire a 360 gradi questa gravissima situazione ed è incredibile che i consiglieri del centro sinistra e il sindaco Biancani nel corso dell'ultimo consiglio comunale non abbiano veramente preso le distanze. Addirittura mi ricordo che c'è stata una consigliera che l'ha definita una situazione normale al limite semplicemente berazzante. Questa è una situazione gravissima. Parliamo di quasi 600 mila Euro, di soldi dei cittadini che sono stati utilizzati non si sa come, anzi abbiamo il Presidente del Consiglio Comunale che nel corso della passata legislatura era un assessore che in maniera candida per amore della verità addirittura dichiara che 20 mila Euro sono stati stanzati con una determina per fare dei lavori di ristrutturazione idraulica ma invece sono stati utilizzati per fare un RALES. Questo è un farsi in atto pubblico evidente ed è incredibile, questa è una situazione che abbiamo visto purtroppo, vede tantissime persone coinvolte. Il fatto che non sia stato dato il via a questa commissione di inchiesta che poi era un bene per tutti, era un bene per il Consiglio Comunale, era un bene per la città, per noi è gravissimo anche perché dobbiamo valutare una cosa, che praticamente tutti gli assessori, a parte una, che siedono adesso insieme a Biancani nel Consiglio Comunale sono tutti gli assessori che appartengono alla passata legislatura. La commissione di inchiesta ha un'operatività delimitata a un determinato ambito, quindi sfrutta tutte le risorse personali e non che ha, proprio per dedicarsi a questa attività e per fare chiarezza su questa questione. Oltretutto la commissione di inchiesta consente anche che ne facciano parte anche dei soggetti esterni, quindi avremmo avuto la possibilità anche di chiedere l'intervento di specialisti in materia di contabilità pubblica che ci avrebbero dato un grossissimo contributo per comprendere e sviscerare tutte le procedure. Quindi un'occasione davvero persa e le motivazioni che ne sono seguite, come ho detto in conferenza stampa, vanno davvero al di là del bene e del male. Quindi nessuna strumentalizzazione, perché questo è uno strumento preciso, previsto a disposizione del Consiglio Comunale, che si adegua a queste vicende delicate. Fino adesso l'ex sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha preferito il silenzio, ha preferito dire che non sa nulla, che non conosce nulla, che non conosce l'associazione, non conosce le persone e si è trincerato dietro un silenzio preoccupante, scaricando tutte le responsabilità solamente sui dirigenti, cosa che credo che sia oltre che sbagliata anche intollerabile rispetto a questo. L'azione amministrativa non può essere esente da una responsabilità su ciò che viene fatto dalle segreterie, dalle strutture e anche dai dirigenti, anche perché sei tu responsabile dell'organizzazione del Comune, cosa che peraltro Ricci ha sempre cercato di ridurre al minimo come si vedono i vari tentativi di organizzazione comunale avuto nel corso degli anni. Ci preoccupa anche molto l'atteggiamento del sindaco Biancani che prima lancia il sasso chiedendo e dicendo che avrebbe voluto fare massima luce sui fatti, dall'altra ritira la mano e guida la sua maggioranza PD 5 Stelle verso la bocciatura della commissione di indagine speciale che avrebbe dato un segnale molto importante di discontinuità, di trasparenza anche all'esterno e avrebbe configurato un perimetro di indagine ben stabilito proprio per porre un grande cambiamento che tutta la città si aspetta oltre a quella della verità. Non solo il caso delle associazioni per il sindaco Biancani, in questi giorni c'è un'altra patata bollente da gestire, quella con l'Arcidiocesi, ma disposta ad accettare la costruzione di un nuovo asilo in via degli Abeti nella stessa zona della Torraccia in cui era prevista l'edificazione di un luogo di culto. Biancani ieri ha proposto due alternative che non soddisfano la curia, visto che dopo la lettera del Vescovo Sandro Salvucci oggi è arrivato anche il comunicato congiunto dei parroci della comunità pastorale in questione, Don Michele Rossini, Don Lorenzo Volponi e Don Alberto Levrini che hanno ricordato come la realizzazione di una struttura polivalente come luogo di culto, di aggregazione, di sede scout e di sede caritas sia urgente e necessaria in una zona popolosa e priva di questi servizi. La realizzazione di un nuovo asilo certamente importante ma inizialmente previsto in altra zona non può rischiare, dicono i parroci, di distruggere ciò che si è costruito fin qui e annullare un progetto da più parti richiesto. Non possiamo nascondere, scrivono i parroci, un profondo rammarico nel vedere non comprese da parte dell'amministrazione queste importanti esigenze e richieste degli abitanti della Torraccia. Le proposte alternative, oltre ad essere lontane dal centro abitato, sono dislocate in aree vicino all'autostrada e tra l'altro non edificabili. E' quindi necessario che il Comune receda da questo nefasto intento e provveda a trovare un'area idonea all'edificazione del nuovo asilo, visto che il piano regolatore prevedeva l'area in questione come destinata ad opere di culto. Ed ora la cronaca. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di un milione e mezzo di euro tra denaro sui conti correnti, bene immobili eppure una Ferrari nei confronti di un imprenditore pesarese a seguito di un'indagine svolta nei riguardi di un consorzio operante nel settore della ristrutturazione edilizia che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità tra finanziamenti del super bonus 110% e risorse PNRR. Dalle 2020 infatti il consorzio si sarebbe adoperato per appaltare lavori edili per i quali era previsto il credito d'imposta 110% e al fine di ottenere il massimo dei benefici avrebbe sistematicamente indicato costi gonfiati e quindi fittizi. Tutto ciò è emerso esaminando i contratti di subappalto dove quei costi di esecuzione e lavori risultavano sistematicamente inferiori. Le indagini hanno così portato alla denuncia del rappresentante legale del consorzio per l'ipotesi di reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche e al sequestro preventivo diretto di un milione e mezzo di beni, ovvero il profitto che sarebbe stato realizzato con la condotta fraudolenta. E torniamo a parlare dei territori colpiti dall'alluvione 2022 come Senigallia e Cantiano. Dopo il via libera definitivo del Senato, questa mattina anche la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato la proroga di un anno dello stato d'emergenza dichiarato in seguito agli eventi alluvinali di settembre 2022. Grazie allo stanziamento di 400 milioni da parte del Governo, la Regione potrà continuare dunque le opere di ricostruzione messa in sicurezza del territorio, mitigazione del rischio ed erogazione di ristori a favore di famiglie e imprese danneggiate. Ed ora ci spostiamo a Fano dove all'ospedale Santa Croce è arrivata un'importante donazione volta a migliorare le prestazioni sanitarie del nosocomio. Un'arma in più contro il cancro alla prostata che causa la morte di 7 mila persone l'anno in Italia ma che resta un tumore guarribile se affrontato con diagnosi precoci. Un'arma in più di cui si è dotata l'ospedale Santa Croce di Fano al quale la fondazione Carifano ha donato un ecografo di ultima generazione capace di un salto di qualità unico nelle marche per effettuare biopsie prostatiche con modalità all'avanguardia che riducono il rischio di infezione per i pazienti. Un upgrade del precedente modello finanziato da un stanziamento di 50 mila euro della fondazione per un ecografo già in utilizzo dal reparto di urologia. L'ultima delle donazioni fatte al nostro ospedale è un upgrade di un ecografo che è un ecografo d'eccellenza all'avanguardia in tutta la regione e è un ecografo che consente di migliorare le condizioni dei pazienti che devono fare questo tipo di verifiche e di diagnosi. È soltanto l'ultima delle donazioni che la fondazione ha fatto all'ospedale di Fano, ce ne sono state altre negli anni. La caratteristica principale è quella di consentirci di effettuare biopsie prostatiche mediante un accesso che non è più transrettale, quindi tipo la supposta intanto per intenderci, ma è transperineale, quindi noi non passiamo dal retto, non passiamo dall'intestino per fare i prelievi, passiamo attraverso il perineo. In questo modo garantiamo al paziente una significativa riduzione del rischio di complicanze infettive che sono quelle che maggiormente spaventano. Una biopsia prostatica se eseguita in condizioni di non adeguata preparazione ed effettuata per via transrettale si associa ad un rischio importante di infezione che può arrivare fino all'estitcemia, quindi questa modalità di accesso riduce significativamente il rischio e le linee guida europee, che hanno proposto già dall'anno scorso, l'accesso preferenziale per via transperineale. La donazione è fondamentale perché ci permette di stare veramente al passo anche con questo upgrade che non è soltanto strumentale ma è concettuale e culturale, cioè di trattare il paziente da sottoporre a biopsia nel modo meno invasivo a 360 gradi, quindi anche relativamente al rischio di possibili complicanze infettive. La differenza è la prevenzione, noi oggi facendo prevenzione riusciamo a fare diagnosi precoce, diagnosi precoce significa attuare provvedimenti terapeutici che si associano alla possibilità di garantire al paziente la guarigione in percentuali prossimi al 100%. È importante fare diagnosi precoce perché se aspettiamo che la malattia bussi arriviamo tardi. Un macchinario presentato alla presenza del direttore generale dell'asta Alberto Carelli e dell'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini che ha voluto nell'occasione fare chiarezza anche sul caso dei 50 posti letto garantiti all'ospedale Santa Croce. I 50 posti letto sono stabiliti per Fano nel piano sociosanitario, quindi non possono essere toccati o inviati in altri centri o in altri plessi ospedalieri. Semplicemente perché l'obiettivo della nostra regione e la politica regionale è quello di valorizzare le ingenti e importantissime risorse presenti al Santa Croce di Fano. Peraltro si tratta non dell'ospedale di Fano, si tratta di un ospedale che serve un'intera vallata, metà della provincia di Pesaro e che deve dare le risposte di altissima caratura professionale e istituzionale. Peraltro entro la fine di settembre dovrà essere redatto il piano aziendale in relazione al piano sociosanitario e quindi i 50 posti letto dovranno essere allocati all'interno delle specializzazioni che sono presenti all'interno dell'ospedale di Fano, quindi servono a Fano questi 50 posti letto. Assurdo tenere chiuso un intero stabile realizzato da un anno che servirebbe a dare ampio respiro a tutti gli operatori del pronto soccorso e maggiore dignità ai pazienti. Queste le parole del sindaco di Pesaro Andrea Biancani in riferimento al sopralluogo svoltosi in mattinata al San Salvatore dove è presente uno stabile nuovo funzionante e dotato di diversi posti letto ma mai aperto all'utenza. Biancani dunque sollecita la regione a provvedere al più presto ad un'apertura di una struttura già provvista di posti letto, macchinari e di un ampio spazio dove poter ospitare il ricovero dei pazienti e alleggerire il carico di stress del personale. E torniamo su Fano per occuparci del caso della decina di volatili trovati uccisi ieri mattina nelle canale Albani fra ocche, anatre e un cigno. Questa mattina non sono stati rilevati ulteriori atti predatori dopo il sopralluogo di Comune e Ast. Il veterinario Nicola Ridolfi in ragione della grandezza delle impronte rinvenute nel fango ha appurato che sono almeno due gli animali predatori ma non è possibile affermare con certezza se si tratta di lupi o di cani. Ieri sera le nostre telecamere hanno fatto tappa a Borgo Pace dove è stata presentata l'edizione estiva 2024 degli itinerari della bellezza. Il progetto di promozione territoriale di Confcommercio raggiunge ora un risultato importante con oltre metà dei comuni della provincia che hanno aderito appunto alla rete degli itinerari. Partito sette anni fa con cinque comuni aderenti, nelle 2025 ne conterà invece ben 27. Un percorso da numeri più che quintuplicati quello degli itinerari della bellezza che supera così l'adesione di oltre metà dei 50 comuni della provincia di Pesororvino che hanno scelto di mettersi in rete con Confcommercio Marche Nord per promuovere le proprie bellezze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Nella cornice del parco Oasi Verde della diligenza di Borgo Pace è stata così presentata la versione estiva del 2024 degli itinerari in un momento di confronto fra programmi intrapresi e strategie future. Borgo Pace è una delle perle ambientali dei nostri itinerari della bellezza, è una località a confine con gli appennini, anzi su gli appennini a confine con l'Umbria, è veramente ricca dal punto di vista ambientale oltre che storico e culturale. È entrata quest'anno nel progetto itinerario della bellezza insieme ad altri tre comuni che hanno portato a 25 il numero delle amministrazioni comunali che hanno deciso nel 2024 di affidarsi a Confcommercio per la promozione turistica. Per un piccolo comune come il nostro poter avere qualcuno che si occupa della comunicazione e della promozione del nostro comune in una rete è una cosa per noi da soli impossibile da fare e in rete è possibile da fare. Il fatto di essere riusciti, il secondo punto, a mettere insieme e quindi a vendere, a proporre e a far vedere quanto è bello una porzione importante del territorio della provincia di Pesurubino, una porzione che tra l'altro va sempre più a crescere anche perché quando soprattutto gli stranieri cercano un luogo in Italia dove fare turismo si sa che non è che guardano i nostri campanili ma guardano le nostre bellezze che fortunatamente una provincia come quella di Pesurubino puoi raggiungere anche in giornata con tempi molto stretti e quindi penso veramente che sia un grosso valore aggiunto. Già da oggi, lo diremo poi, lo confermeremo, sono 27 i comuni perché nel frattempo anche il comune di Monte Cerignone e il comune di San Costanzo hanno aderito al progetto ma altri per la verità sono in itinere, sono in arrivo perché la bontà del progetto sta nel grande lavoro che stiamo facendo per promuovere i territori e il fatto stesso che i comuni continuano ad aumentare sta a significare che stiamo lavorando bene insomma. I risultati poi, lo dicevo qualche giorno fa in un'intervista ad un giornale locale, i risultati poi li vediamo anche dalle presenze nei musei che gestiamo noi. Il Museo di Pergola dall'anno scorso a quest'anno abbiamo fatto un aumento di oltre il 35% dei visitatori. Mondavio e Cagli dove abbiamo la gestione dal primo luglio dell'anno scorso oltre il 20% di aumento perché una cosa che io dico sempre agli amministratori non basta gestire i musei, bisogna promuoverli perché aprire e chiudere sono buoni tutti. Noi aggiungiamo a questa disponibilità dei nostri collaboratori anche la promozione dei siti a livello nazionale e internazionale. Abbinata alla promozione generale dell'itinerario della bellezza comporta poi dei risultati così positivi. 27 comuni sono ecco più della metà dei comuni della provincia e questo ci riempie di soddisfazione tenendo conto anche che abbiamo in lista d'attesa dei comuni della provincia di Ancona. Dovremmo essere anche più orgogliosi di essere marchigiani perché abbiamo una caratteristica unica, quella che in 40 chilometri di ampiezza noi abbiamo bellissime spiagge con grandi città che arricchiscono la nostra offerta turistica, culturale, artistica e storica ma anche piccoli centri spostandoci verso l'entroterra che sono a volte degli scrigni ancora sconosciuti molto spesso anche ai turisti italiani. E allora noi dobbiamo promuovere il turismo ma allo stesso tempo investire come stiamo facendo in infrastrutture. Da domani 2 agosto inizia il ricco programma di iniziative religiose e di aggregazione del santuario del Beato Sante. Tra la religiosità storica dell'evento del Beato Sante all'insegna dello spirito e del corpo e la novità di una conferenza stampa Villa Caprile che spezza la tradizione sono stati presentati gli eventi della mese d'agosto che da sempre caratterizza il periodo della Beato Sante di Monbaroccio, ripercorrendo la sua vita, le sue opere, le sue gesta. Questo mese di agosto è un mese del tutto particolare al Beato Sante ed è caratterizzato dal fatto che il Beato Sante è passato la vita eterna proprio nel colmo del mese di agosto per la solennità dell'assunta e da quel momento è diventato il suo mese. Si è poi arricchito di tante celebrazioni a cominciare prima di tutto dalla festa dei bambini che apre un po' il mese. Il Beato Sante è stato sempre legato ai bambini come protettore e spesso nelle raffigurazioni tradizionali che abbiamo del nostro Beato proprio nell'atto di benedire un bambino malato. Poi c'è il pellegrinaggio di Monbaroccio, 1517 il paese di Monbaroccio, il piccolo castello rischiava di essere veramente raso al suolo e la popolazione sterminata ha fatto voto al Beato Sante, miracolosamente fu salvato dalla distruzione e da quel momento vengono ogni anno da Monbaroccio a ringraziare il Beato Sante e a sciogliere questo voto. Poi abbiamo il paese originario del Beato Sante, il Monte Fabri che è un piccolissimo castello, c'è poca gente adesso, comunque vengono i pellegrini del paese per ricordare il loro conterraneo e l'ultima domenica quella del ringraziamento ma che dedichiamo anche poi ai malati, anziani, disabili, cioè tutte quelle persone che sentono il bisogno della protezione e dell'aiuto. Il Beato Sante di quest'anno continuerà inoltre il lavoro già iniziato precedentemente di unione, condivisione e comunità tra le tantissime realtà coinvolte e che quest'anno si rafforza ancora di più. Abbiamo cercato di valorizzare il Beato Sante grazie all'associazione che è presieduta da Damiano Bartocite ma soprattutto grazie ai volontari che girano intorno a questa associazione, grazie ai fratti minori, grazie a tutti coloro che intorno al Beato Sante lavorano affinché questo santuario sia un patrimonio non solo per Monbaroccio ma per l'intera collettività che sia quella provinciale, che sia quella regionale, che sia quella nazionale. Un percorso che vede anche un turismo religioso affezionato al nostro convento ma soprattutto un convento che è stato promotore della civiltà monbaroccese. Abbiamo gettato le basi per un progetto molto più grande, un progetto di comunità con l'associazione Il Sole nel Cuore e la fondazione dove lavoreremo insieme per creare una comunità forte nel nostro territorio provinciale. Abbiamo già iniziato il primo mattone con il restauro del refettorio antico grazie al contributo della Regione Marche, continueremo con il restauro di tante altre parti. Noi stiamo costruendo qualcosa di importante e questa vuole dire la partenza, è la partenza di un luogo ma soprattutto di un'idea. Il luogo porta per l'idea perché il luogo alla fine di tutto è importante per la gente e quindi qui abbiamo una condizione mistica portata dall'anima e che noi vogliamo portarla al corpo anche, che è di mettere la gente insieme perché se tu metti il corpo bene, e lo dicevano i frati, mens sani, incorpore sano, è tutta un'altra storia. A Pesaro quello di domani sarà un venerdì 2 agosto all'insegna delle auto d'epoca che si prenderanno la scena del lungomare. È tutto pronto per Epoca by Night, il concorso di eleganza per auto d'epoca ASI che si riproporrà a Pesaro il 2 agosto in una quinta edizione che aggiunge Villa Caprile alla tradizionale location della palla di pomodoro. Alla mattina quest'anno la manifestazione inizierà da Villa Caprile dove saranno e arriveranno tutte le auto del concorso, saranno selezionate dai giudici e poi ci si fermerà a pranzo a Villa Caprile e poi a metà pomeriggio le auto saranno trasferite alla palla di pomodoro dove saranno tutte posizionate nell'area verde e quindi sul prato e continueranno i giudici a visionarle perché loro dovranno fare una classifica per modello e per anno di costruzione per poi l'assegnazione delle coppe finali e dei premi finali. È la quinta edizione, le prime tre edizioni erano partite facendo una mostra statica, invece l'anno scorso abbiamo fatto il primo concorso di eleganza calendario ASI e quindi a questo punto le cose sono andate bene a tal punto che ASI poi ci ha riconosciuto anche un premio e quest'anno ci siamo replicati cercando di fare ancora meglio, cercando di selezionare le macchine più importanti che siamo riusciti a reperire tra tutti i 300 club ASI che ci sono in Italia. Come regolamento ASI le macchine non possono essere portate per due anni consecutivi, per cui fatto un'edizione praticamente si riparte da zero e bisogna trovare altre macchine, chiaramente l'impresa è abbastanza complessa perché la selezione è importante, cerchiamo di trovare delle macchine molto importanti, è un lavoro che è iniziato un anno fa con contatti ripetuti con i collezionisti, per cui le 43 macchine che noi presentiamo suddivise per categorie sono macchine abbastanza importanti, si va dal 1929 al 2003, quindi cerchiamo di dare un panorama abbastanza ampio ma abbiamo ben sei anteguerra e abbiamo 14 macchine che vanno dal 40 al 60, quindi sono diciamo quelle tra virgolette più prestigiose. Fra le 43 auto d'epoca presenti anche qualche chicca assoluta. Questa macchina è una Roll Royce Phantom 2 Pininfarina, è un modello unico, è una macchina che ha 90 anni, è passata soltanto per quattro mani, è stata fatta diciamo comprando un telaio e un motore dalla Roll Royce e poi Pininfarina l'ha costruita e l'ha consegnata al proprietario che è uno di Torino, c'è la targa originale, è stata restaurata nell'87 e dal 92 di questo proprietario, è una macchina che ha partecipato a tanti concorsi, abbiamo anche ad esempio un Alfa Romeo 6C 2005 Frecciadoro che è una macchina molto bella, una Lancia Stura, insomma ce ne sono, di macchine importanti ce ne sono tante, poi chiaramente c'è un vincitore per la categoria e poi la migliore di tutte sarà la Best of Show. Ed ora parliamo del premio del Circo L'Amici della Lirica Rossini d'Oro che in questo mese d'agosto raddoppia i suoi riconoscimenti. Il Rossini d'Oro è stato istituito dal Circo L'Amici della Lirica Gerossini nel 1985 e i primi anni veniva dato ogni anno, quindi dal 1985, 1986, 1987. Il primo premiato fu Samuel Ramei del Rossini Opera Festival e l'idea di questo premio rossignano, al tempo non c'erano tante cose come ora, è stata della nostra purtroppo defunta Marisa Biscuola che era il fulcro del Circo L'Amici della Lirica. Noi cerchiamo di portare avanti questa iniziativa anche in sua memoria. È uno dei premi prestigiosi della città che però non si svolgevano, veniva assegnato dal 2016, quindi dopo otto anni, in un anno eccezionale come l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura, torna a Rossini d'Oro recuperando un po' di tempo perduto con due premiati. è un direttore d'orchestra e una cantante, entrambi straordinari, Michele Mariotti è nato ascoltando e respirando musica e Rossini da Pesaro, è diplomato al Conservatorio Rossini ed è lì una carriera a livello mondiale che l'ha portato nei teatri più importanti del mondo e anche attualmente alla direzione dell'Opera di Roma. Eleonora Burato invece è un artista che negli ultimi anni sta avendo una carriera veramente formidabile, anche lei di livello mondiale, legata a Pesaro naturalmente in quanto grande voce rossiniana e in quanto anche protagonista però assieme a Pesaro dei cent'anni di Renata Tebaldi, è stata un po' nel comitato internazionale Renata Tebaldi individuata come figura chiave di riferimento come cantante simbolo per celebrare cent'anni dopo Renata, quindi capiamo anche che tipo di importanza e quindi questa è la legata a Pesaro per diversi momenti, dalla grande mostra che è stata organizzata in sonore, qui è stata presente a tanti altri concerti. I due premi verranno donati nel cortile del palazzo Montani Antaldi, il 2 agosto al maestro Mariotti alle ore 18.30 e l'8 agosto a Eleonora Burato sempre alle 18.30. In questi due momenti ci saranno due musicisti, Davide Moretti al violoncello che suonerà e Raffaele Damen l'8 di agosto alla Fisarmonica. E' pronto il piano di viaggio della VL per tentare la risalita nella massima serie del basket. Dopo la prima giornata del 29 settembre in trasferta a Nardò già ufficializzata ieri, la Lega Pallacanestro ha diramato l'intero calendario di serie A2 che dopo la trasferta a Salentina vedrà un doppio impegno casalingo per i pesaresi ravvicinato alla Vitrifrigo Arena. Il 2 ottobre con Vigevano, il 6 ottobre con Avellino, dopodiché altra doppia trasferta fra Rieti e Forlì. L'ultima delle 38 gare di regular season si giocherà il 26 aprile con Verona VL. Si conclude qui questo nostro spazio informativo del telegiornale Rossini News, subito dopo il TG alle 20 uno dei nostri speciali, quello dedicato al BMW Summer Tour Serie M organizzato da Sport and Safe Driving School. A seguire alle 21 e 20 ci occuperemo invece del nono concorso letterario di Ideo Book e poi come sempre vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di Buongiorno Rossini che torna domani venerdì 2 agosto in diretta alle 7 e 20. Ed è davvero tutto per questa edizione del telegiornale Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.